Sam Komask? Mirwan Suarso, top manager della proprietà del Como 1907, con molta scaramanzia più italiana che indonesiana, preferisce non sbilanciarsi troppo a parlare di azzurri in Serie A. Il mio pragmatismo mi spinge a non farmi prendere dall'entusiasmo, spiega. Sappiamo comunque che ci sarà molto lavoro da fare, comunque vadano le cose. Al di là di questo, Suarso come sempre non si nasconde e parla del futuro. Subito una rivelazione sullo stadio Sinigaglia. Il progetto è pronto e la speranza è di poterlo presentare a metà mese in comune a Como. Il progetto del nuovo stadio. La speranza è presentare la nostra proposta presto in comune a Como. Vorrei farlo entro la fine della settimana centrale di maggio a metà mese. Conto che sulle ali dell'entusiasmo il processo possa essere velocizzato. Attualmente il piano è in fase di analisi da parte della proprietà e della nostra società specializzata in gestione degli immobili. Ci sono una serie di persone con opinioni differenti e bisogna trovare un accordo. Si tratta di un progetto interamente finanziato dalla proprietà che non chiederà soldi né all'amministrazione né ad altri enti. Uno stadio fruibile per 365 giorni all'anno a disposizione di tutta la comunità con la piscina e altri servizi. Ogni passo quindi va fatto con i piedi di piombo. Dallo stadio alla squadra, l'eventuale ma comunque vicina promozione in Serie A, cosa comporterà nella costruzione della rosa? Se siamo promozioni in Serie A, siamo... Abbiamo studiato i dati. Questi ci dicono che il 50% delle squadre promosse in A ritrocedono il primo anno e si arriva al 75% nel secondo. Una situazione non semplice che richiede grande lavoro e preparazione per consolidarsi e fare passi in avanti. La nostra filosofia sarà quella di sempre, essere oculati nelle spese e attenti al bilancio. Non ci saranno centinaia di milioni spesi per un trasferimento, non arriveranno Messi e Ronaldo. Prenderemo calciatori funzionali al nostro progetto, valutando i dati e rafforzando lo scouting, come è stato ad esempio nel caso di Braunoder. Atleti che potranno fare al caso nostro, adeguati al progetto che abbiamo intrapreso, senza spese eccessive. Infine un accenno a SESC Fabregas. SESC fa parte della proprietà ed è l'architetto del nostro progetto tecnico. Sta ottenendo la licenza di allenatore. Attendiamo quindi una sua decisione rispetto a ciò che vorrà fare, il tecnico della squadra o il supervisore.